Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, ha disposto il rinvio giudizio nei confronti dei menfitani Matteo Mistretti e Tommaso Gulotta. Si tratta di due delle otto persone coinvolte nell'ambito dell'operazione antimafia denominato Opunzia, quella che ha fatto riemergere la volontà di riaffermazione delle consorterie mafiose di Sciacca e Menfi. Accolta dal GUP la richiesta del sostituto procuratore della DDA di Palermo, Alessia Sinatra, il processo per Mistretti e Gulotta si svolgerà con il rito ordinario. I loro legali avevano chiesto il non luogo a procedere, gli altri sei imputati hanno chiesto e ottenuto invece il rito abbreviato. Tra di loro c'è anche il Saccenze Domenico Friscia, poi ci sono anche i menfitani Vito Riggio, Giuseppe e Cosimo Alesi e il medico Pellegrino Scirica. Rito abbreviato anche chiesto da Vito Bucceri, colui che dopo essere stato arrestato proprio nell'ambito di questa operazione decise di saltare il fosso, cominciando a raccontare tutto agli inquirenti, diventando così determinante per il prosieguo di queste e di altri procedimenti. La prima odienza al Tribunale di Palermo per il rito abbreviato è stata fissata per il 19 febbraio. Il pentimento di Vito Bucceri, boss di Menfi, è stato oggetto di contestazione da parte degli altri indagati. Il legale di Mistretti e Gulotta infatti hanno puntato tutto sulla sua presunta inattendibilità come collaboratore di giustizia, ma il gruppo ha considerato i fatti in maniera diversa. Per la DDA di Palermo l'analisi della complessa ed articolata attività svolta dai militari della compagnia di Sciacca attraverso l'ascolto delle numerose conversazioni captate cui hanno fatto riscontro tempestivi servizi di osservazione fissa e dinamica degli indagati e dei luoghi maggiormente frequentati ed infine il contributo di collaborazione reso da Vito Bucceri ha permesso di appurare che gli odierni indagati risultano tutti a pieno titolo inseriti in un contesto criminale riconducibile alla matrice di Cosa Nostra. L'inchesta scattata negli anni scorsi ha puntato sul ruolo di Bucceri e di quelli che la DDA ha definito i suoi costanti contatti con Pietro Campo, Leo Sutera e il Sacenze Domenico Friscia. Sotto i riflettori un business ad ampio raggio con interessi su appalte e opere pubbliche ma anche sull'illecita gestione dei proventi del settore dei videopoker e delle slot machine.